ciao e benvenuti su uno video oggi vi mostro il clonamento di una presa polizzata 5400 dalla radio a una cassa dalla radio assieme a presente una spina che andrà collegata e al corrente la presa polizzata andrà collegata su una spina a parte e si presenta una scatoletta distinta dall'altra parte della stanza ad esempio qua andrà collegata la cassa e si presenta una scatoletta a parte per i collegamenti della presa polizzata la cassa andrà collegata e andrà bene cd, cassetti e come stesso tipo ciao